... L'anteprima del nostro telegiornale, oggi tanti temi sul tavolo a partire dalla visita di questa mattina del direttore generale dell'Atra Napoli 2 Nord Antonio D'Amore al lab vaccinale di Forio prima e di Ischia dopo, sentiremo le sue parole, dopodiché torneremo anche sulla vicenda dei mercatali di Casamicciola questa mattina in piazza per protestare, per chiedere maggiore attenzione al sindaco Castagna, sentiremo anche le parole del primo cittadino di Casamicciola e poi sempre da Casamicciola arriva una proposta speciale, quella di realizzare un busto in marmo per ricordare Don Vincenzo Avallone di questo e tanto altro parleremo dopo la pubblicità Il centro diagnostico Ecorad del dottor Renato Regine si è rinnovato Nuove e moderne strumentazioni e studi più accoglienti e riorganizzati Per la salute dei nostri pazienti, ecco la nuova MOC Primus per l'osteoporosi e la nuova TAC Siemens Somaton Ecorad ti offre strumentazione di ultima generazione, dagli altissimi standard tecnologici con riduzione delle dosi di radiazioni Il centro Ecorad è inoltre specializzato per diagnosi approfondite per encefalo, colonna vertebrale, strutture osteoarticolari, mammografia Ecorad è in rione Genala 16 a Forio, telefono 081 99 71 82 Ecorad, medicina di ultima generazione, per la salute degli isolani Grandi saldi per grandi marche Cogli le grandi offerte di Arpel Da sempre punto di riferimento per ischitani e turisti Le migliori marche a prezzi mai visti prima Sconti fino al 70% per prodotti firmati Alviero Martini Prima Classe Gams, Gattinoni, Mazzini, Biasia Francesco e tanti altri Arpel è borse, portafogli, cinture, accessori, articoli viaggio Ed anche abbigliamento di Alessandro Legora Questo è il momento di acquistare Ad Ischia, in corso vittoria colonna Arpel, grandi saldi per grandi marche Ischia, il mare, le terme, la natura Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare L'hotel Re Ferdinando, quattro stelle leisure Ti offre un ampio parco, cinque piscine Duemila metri quadrati di centro benessere Ben quattro ampie sale ristorante con tavoli ben distanziati E poi palestra e tanto altro ancora Cogli le nostre offerte, scoprile sul sito web hotelreferdinandoischia.it Oppure telefona al numero 081 507 01 11 E da oggi caparra zero e cancellazione gratuita della prenotazione fino a sette giorni prima dell'arrivo Ci siamo attrezzati per garantirti una vacanza in piena sicurezza L'isola più bella, le quattro stelle più prestigiose Per una vacanza davvero speciale Re Ferdinando Stupirvi è la cosa che ci riesce meglio L'antica arte della ceramica Tramandata da generazione in generazione Giunge fino a noi Keramos Maestri della creta e professionisti della decorazione Realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni Realizzazioni personalizzate e su ordinazione Dopo il terremoto del 21 agosto Da Casa Micciola ci siamo trasferiti a Forio La passione per l'arte Keramos La ceramica d'Ischia Una lunga storia senza fine Pubblicità media in service Buono pubblicità Agenzia stampa e propaganda Dal 1962 Nuove idee per l'isola d'Ischia Vaccini Oggi ad Ischia La visita di Damore Il direttore generale dell'ASA Napoli 2 Nord Operazione Ischia di fondamentale importanza Intanto domattina De Luca sarà a Capri Casa Micciola I mercatari scendono in piazza In mattinata Ambulanti con i mezzi sotto il comune Per chiedere maggiore considerazione Al sindaco Castagna Casa Micciola Un busto per Don Vincenzo Avallone A lanciare l'idea L'architetto Caterina Iacono Procida Film Festival Alvia il bando Per l'edizione 2021 Il direttore Bello Fatto Confermata la tradizione Di promozione culturale dell'isola Buonasera e bentrovati Per l'edizione serale Del telegiornale di Teleischia I militari Della Guardia di Finanza di Cassino Unitamente agli agenti Della Polizia di Stato E del Commissariato di Pubblica Sicurezza Di Cassino Hanno dato esecuzione Nello scorso marzo Ad un'ordinanza di applicazione Di misure cautelari Disposte dal GIP Del Tribunale di Cassino Nei confronti di otto soggetti Di cui tre Sottoposti agli arresti domiciliari E cinque colpiti Dal divieto di esercitare Attività imprenditoriale In esecuzione del decreto di sequestro I finanzieri hanno sequestrato Conti correnti e beni immobili Ad uso commerciale e residenziale Tra cui due immobili di pregio Ad Ischia Per un valore complessivo Di oltre 750 mila euro Le indagini avevano consentito Di costruire molteplici illeciti Commessi da alcune cooperative Attive nel settore del sistema Dei centri di accoglienza straordinaria I CAS Di cittadini stranieri Tra le province di Frosinone E Casetta E questa mattina a Casamicciola La protesta dei mercatali Del Pio Monte della Misericordia Che è ormai chiuso da mesi A differenza degli altri mercati Dell'isola Una chiusura che grava ulteriormente Su una situazione economica Già precaria Dovuta all'emergenza da coronavirus Seguiamo il servizio Stamattina a Casamicciola Una protesta La protesta dei mercatali Il mercato di Pio Monte della Misericordia A Casamicciola È ancora chiuso dopo sei mesi Con Enzo Speranza Presidente regionale A Stocampagna Sì, veramente i mesi sono otto E per certi aspetti Anche incomprensibili Dove parte da un sovralluogo Di un'Az Dove faceva delle prescrizioni Indicava delle prescrizioni al comune In modo da intervenire in quell'area Per rendere le donne Il sindaco trasferiva su di noi questa cosa E noi puntualmente Gli operatori A costi da carico l'olgo Caricandosi i costi Hanno prima pulito l'area Messa a posto con brecciome E quant'altro Per rendere le donne Con operai chiamati Con camion chiamati a spese nostre Questo non bastò Il sindaco ci chiamò E ci dice Ci servono Oltre i due bagni che ci sono Ci servono altri due servizi igienici E noi puntualmente gli operatori A spese sempre l'olgo Pagando 350 milioni di noleggio Hanno fatto in modo Di dotarla Di altri due bagni Quattro bagni chimici In un'area piccolissima Dove servirebbero anche dei metri Purtroppo il mercato Il mercato ancora non riprende Ma il paradosso che sta succedendo Che mentre gli operatori Non operano da otto mesi In quell'area Che il sindaco ritiene Non essere idonea Nello stessa area Però il sindaco fa prima Un mercato di prodotti Tipici alimentari E soprattutto La cosa che La sorpresa di ieri È che dal 7 agosto A 26 agosto In quella stessa area Che il sindaco ritiene Non idonea Per il commercio ambulante Per fare il mercato Due mezzi giornate alla settimana Si farà una manifestazione Di esposizione Dell'artigianato Di prodotti alimentari E quant'altro Siamo chiusi da molto tempo E auspichiamo una riapertura Al più presto possibile Per questo Noi stiamo qui Per protestare Diciamo protestare Per manifestare La nostra rabbia Perché non si apre Questo mercato Sono otto mesi Che siamo chiusi Abbiamo fatto tutto Quello che dovevamo fare Nell'area Ci abbiamo messo in bagno Abbiamo fatto le pulizie Però tutto questo Non è servito L'amministrazione Tace del tutto Noi vogliamo solo La riapertura del mercato Dei ristori ci servono Ben poco Non ci interessa Anzi Noi paghiamo un solo pubblico A Casamicciola Il più alto d'Europa Ma non ci interessa Vogliamo lavorare Perché il mercato Di Casamicciola È storia È un mercato Che dura dal 1982 In quell'area E adesso Non so perché È interdetta Solo per noi ambulanti Poi altre cose Vanno fatte Il sindaco di Casamicciola Ha incontrato Ed ascoltato Le istanze Degli operatori Del mercato Ad un tavolo di confronto Si è giunti Ad un compromesso Per riaprire il mercato Che verrà spostato Dice il sindaco A Piazzetta Bagni La riapertura È prevista Per il 24 maggio Queste le parole Del sindaco La questione è questa Noi non è che E non siamo Contro al mercato Sappiamo benissimo Così come L'abbiamo dimostrato Sempre che Il mercato È un elemento Fondamentale In un paesino Come Casamicciola È chiaro che Se il mercato È stato chiuso Principalmente È dovuto al fatto Del covid Perché sapete Che in effetti Ci sono stati Dei regolamenti E delle condizioni Da rispettare Che hanno portato Alla chiusura Necessaria Del mercato Ma ancora prima Ci sono stati Dei rapporti Dell'ASL Dei vigili fuoco Dell'ufficio tecno Che hanno portato Appunto Alla sospensione Del mercatino Però Nel frattempo Si era E si è Poi arrivati A organizzare In un'altra area Praticamente Del comune di Casamicciola E nella sostanza Già si era individuato In passato Il parcheggio Di piazza Bagni Un'area Per poter organizzare Comunque Il mercatino Anche perché Poi al di là Della necessità Dei lavoratori ambulanti C'è anche la necessità Per la popolazione Per recarsi Al mercato Il mercato Così come abbiamo deciso Con il delegato Giovanni Barile E anche con la partecipazione Dei mercatali Perché poi Su questo Dobbiamo dare atto Che c'è stata sempre Sinergia Tra l'amministrazione E i mercatali Abbiamo individuato L'area Come dicevo prima L'area Del parcheggio Di piazza Bagni E credo che Per il 24 maggio Possiamo anche Dare questa soddisfazione Nell'andare Ad aprire Un qualche cosa Che la sentiamo Tutti quanti Quindi Questo non è stato Una conseguenza Della manifestazione Stamattina Ma già era Intenzione del comune E proprio a male Noi riteniamo invece Questa manifestazione A differenza di quello Che ha detto il sindaco È stata necessaria Ed è stata positiva Perché da questa manifestazione Si è divenuta Una decisione Diciamo unitaria Andando a individuare Le problematiche Che ci sono E il sindaco Quello che io contesto Il sindaco Che è stato un sindaco Ragioso in passato Negli ultimi due anni Mark cade la difficoltà Evidentemente Per certi problemi Che probabilmente Sono politici All'idea dell'amministrazione Stessa E questa sta facendo Pagare un prezzo enorme Al mercatino Di Casamicciola Noi abbiamo Accettato la proposta Di Piazzetta Bagni Entro il 24 maggio E non oltre Inoltre Ci tengo a precisare Che se L'area Di Piemonte La Misericordia Ad agosto Dovesse vedere Insiste La fiera espositiva Quindi ciò vuol dire Che quell'area Sarebbe stata resa Idonea Perché un'area Non può essere Non idonea Per una tira commerciale E idonea per un'altra Noi non esiteremo Un secondo A prendere gli operatori E portare di nuovo A Piemonte A me interessa Interessa questo Io mi scuso Se ci possono essere Delle piccole attese Parliamo sempre Nei limiti fisiologici Di 30 minuti Massimo 45 minuti Però ce ne scusiamo Lo stesso L'operazione Che stiamo facendo Ischia E' un'operazione Importante Per l'isola E' un'operazione Importante Per tutti I cittadini Che ne fanno E che ne sono residenti E che hanno vissuto Un anno e mezzo Loro particolarmente Preoccupati Perché Le difficoltà Di dare apporto A livello sanitario Sull'isola Sono diverse Da quella Della terraferma Penso che Tutta la gestione Della pandemia Dalla prima Ondata A quella Di autunno Dell'anno scorso A quella Che viviamo Attualmente Sia stata Una buona Comunque gestione Io ringrazio Di quest'ultima fase La dottoressa Rossetti Per l'ottimo lavoro Che sta facendo Un lavoro Instancabile Viste anche Le condizioni Sue psicologiche Quindi Siamo tutti vicini A lei Ci fa piacere Anche che Mi diceva Stamattina Che il marito Sta meglio Questo è per far Capire a tutti Come Lavora la sanità Io ribadisco Questa è un'operazione Che doveva partire Un mese fa Siamo stati Bersagliati Da critiche Su un'idea Del governatore E poi Come spesso Accaduto In questo ultimo Anno e mezzo Dopo 20 giorni Hanno fatto La stessa cosa Di quella che Il governatore Aveva detto Un mese fa Cioè Noi sappiamo Perché è stato Il governo Che oggi Hanno iniziato A vaccinare A Lampedusa A Stromboli E a tutte le isole Italiane Quindi questo Ci fa piacere Mettere in sicurezza Delle persone Che sono Per ubicazione Geografica Più fragili Rispetto a quella Della terraferma Per noi Importanti Che poi Ne possa conseguire Anche un ritorno Turistico Ed economico In questo momento E' altra cosa Molto molto Importante Questa svolta È stata possibile Perché 12 Giovani Usca 12 Giovani Ragazzi Si stanno Sacrificando Dalle 8 Di mattina Alle 9 10 Di sera Dormendo Sull'isola Non vedendo Le proprie Famiglie Sacrificando Anche quelli Che possono essere I propri svaghi I propri interessi Anche se In questo periodo Un po' Minori Rispetto a quelli Di prima Ma certamente Per mettere in sicurezza E per dare un servizio Alla popolazione Questi ragazzi Si sono uniti Alle persone Già presenti Sull'isola E stanno dando Veramente Hanno svoltato pagina Oggi siamo Sui 2.000 vaccini Ma dopo avremo Una riunione operativa Cerchiamo di portarli A 2.500 3.000 vaccini Al giorno Cioè il nostro obiettivo È in massimo 15 giorni Di chiudere La campagna vaccinale Quindi il nostro appello È quello di iscriversi In piattaforma Al più presto Perché questo Ci farà in modo Di velocizzare E di essere L'operazione Molto molto più Semplice e ordinata E domani Sabato 8 maggio Alle 11 Il presidente Vincenzo De Luca Incontrerà i sindaci Di Capri e Anacapri Insieme al direttore generale Della ASD Napoli 1 Per fare il punto Sui risultati Del piano vaccinale In corso Sull'isola L'incontro pubblico Si terrà a Capri Nell'area Della piazzetta Procide Capri Sono ormai Covid free Tra due settimane Anche Ischia Ha sottolineato con orgoglio Lo stesso De Luca Nella diretta Del venerdì pomeriggio Sentiamo È importante Che abbiamo Completato Il lavoro Di immunizzazione Delle isole Procida Domani mattina Abbiamo una iniziativa A Capri Per presentare Capri L'isola di Capri L'isola di Capri Covid free Avevamo deciso Di fare questa scelta Avevamo deciso Di immunizzare Le isole Sia per ragioni Sanitarie Sia per ragioni Di promozione Internazionale Del turismo Campano Voi ricordate Che Qualche mese fa Quando Abbiamo Comunicato Questo obiettivo Della regione Campania Vi sono state Polemiche A non finire Bene Prendiamo atto Con soddisfazione Che oggi Sono d'accordo Tutti quanti Sulla necessità Di immunizzare Le isole Ci fa piacere Domani Capri Dopo due settimane Completiamo Ischia Procederemo Sulla nostra Linea Immunizzare Tutti i territori Che accolgono Turismo Come priorità Assoluta Procederemo Così D'intesa Con gli albergatori Sulla costiera Sorrentina Sui campi Flegrei Sulla costiera Malfitana Sulla costiera Cilentana Dobbiamo mettere In sicurezza I territori Campania Sicura Deve essere La parola D'ordine Campania Sicura Ce la faremo Con la priorità Delle isole E la priorità Di immunizzare La città di Napoli Entro luglio E anche a Procida Continua La campagna vaccinale Domani al municipio La somministrazione Solo di seconde dosi Di vaccino Sabato 8 maggio Saranno somministrate Le seconde dosi Del vaccino A chi ha già la convocazione Ha dichiarato Il sindaco Ambrosino In questa seduta Non sarà possibile Vaccinare nessuno Per la prima dose Siccome i cittadini Coinvolti Saranno 323 L'appuntamento È al municipio Ricorda il primo cittadino Per le prime dosi Da recuperare Cercheremo di ottenere La disponibilità Dell'ASL Per il prossimo Fine settimana E questa mattina Si è svolta Presso la prefettura Di Napoli Una riunione Del comitato Per l'ordine E la sicurezza Per valutare Le strategie Da mettere in opera Per il controllo Del capoluogo Dell'area metropolitana Di Napoli In cui rientrano Le isole Ischia, Capri E Procida In particolare Per il fine settimana Sono stati pianificati I controlli Per il contrasto Alla diffusione Del virus Da Covid-19 Con la previsione Di un ulteriore Rafforzamento Dei servizi Di vigilanza Da parte Delle forze Di polizia E della polizia locale Secondo i modelli Operativi Già sperimentati Nello scorso Fine settimana Anche con riferimento Alle vie d'accesso Che conducono Alle spiagge E alle scogliere Riservando altresì Particolare attenzione Alla verifica Del rispetto Da parte Degli esercenti Degli orari Di chiusura Dettati dalla normativa Per il contenimento Del contagio Specie Presso le aree Del lungomare Della Movida Campania Con smart card Possibili deroghe A divieti L'unità di crisi Regionale Predisporrà di concerto Con le associazioni Di categoria Dei protocolli Con adeguate misure Per assicurare La fruizione In sicurezza Di diversi servizi Turistici Alberghieri Del settore wedding Dei trasporti Come anche Degli spettacoli E poi altri Attraverso facilitazioni E deroghe Alle misure Di sicurezza Più restrittive Per i cittadini Che saranno In possesso Di certificazione Smart card Di completamento Della vaccinazione Fermo l'obbligo Ovviamente Di utilizzo Dei dispositivi Di protezione Individuale Lo prevede Un'ordinanza Del presidente De Luca Crescerà dunque Progressivamente L'utilizzo Della smart card Per chi abbia Ultimato le due Somministrazioni Di vaccino Con il supporto Della protezione civile Le ASL Completino Si scrive Nell'ordinanza Entro dieci giorni Le consegne Delle smart card In corso E si impegnino A programmare La consegna Delle ulteriori smart card Al momento Del completamento Della vaccinazione A sottolineare L'importanza Di questo nuovo strumento Per quello che riguarda I numeri Dell'emergenza Covid A livello nazionale Continua il calo Dei positivi La decrescita Di 5.238 Rispetto a ieri Purtroppo Invece I deceduti Sono 207 In più E portano il totale A 122.470 15.580 I guariti Per un totale Di oltre 3 milioni E mezzo Andiamo a vedere Il dettaglio Degli attualmente Positivi Sono 2.253 Ancora I ricoverati In terapia intensiva Anche se c'è stato Un calo di 55 unità Rispetto a ieri I ricoverati Con sintomi Sono 16.331 Qui il calo Come spesso accade Più significativo Meno 536 Mentre 378 O 1.980 Sono I positivi In isolamento domiciliare Senza sintomi Oppure con sintomi lievi Per quello che riguarda I nuovi contagi Di oggi in regione 1.382 I nuovi contagi Segnati nel rapporto Su 18.779 Tamponi molecolari Eseguiti Andiamo a dare un'occhiata Anche ai guariti Che sono 2.177 In più Purtroppo Anche il numero Dei deceduti Continua a crescere Sono 43 Quelli Dell'ultimo rapporto Per quello che riguarda Invece residenti a Forio Due a Procida Ed uno a Dischia Nulla da segnalare In questo rapporto Per l'isola Di Capri Casa Micciola Ricorderà in maniera Stabile e definitiva Lo storico parroco Don Vincenzo A Vallone Con l'installazione Di un busto In marmo Nei giardini Della parrocchia Di Santa Maria Maddalena L'iniziativa È stata lanciata Dall'architetto Caterina Iacono Sentiamo Io Come cittadina Di Casa Micciola Mi sono fatta Portavoce Di un sentimento Che albergava Già in Molti Con cittadini Amici di Casa Micciola E non solo C'è quella Di Lasciare traccia In un ricordo Di un ricordo Di Don Vincenzo Un parroco Che ha intrapreso Il suo lungo percorso Qui a Casa Micciola Nei lunghi anni Alla parrocchia La Palsilica Poddificia Di Santa Maria Maddalena Un percorso Francescano Nel senso più Vero del termine Un discorso Di vicinanza Alla sua popolazione Lui Si spogliava di tutto Per darlo Agli altri Qualsiasi regalo Lo dava Che donava Che riceveva in dono A sua volta Lo donava agli altri E questo Don Vincenzo È rimasto Io mi sono solo Fatta portavoce Di un sentimento Comune E quindi Il nostro obiettivo È quello Di lasciare Memoria Di questo grande Sacerdote Francescano Amato da tutti Allora La raccolta film Se non vado errato È sulla piattaforma Change.org Si può ancora Partecipare Ad oggi Quante Quante film Sono state Raccolte E magari I passi successivi Ecco Quali saranno Sì È partita Sulla piattaforma Change.org Però E anche Noi l'abbiamo fatta Girare sui social Quindi tutti coloro Che vogliono ancora Firmare Sulla mia pagina Caterina Iacono Possono farlo Come sul gruppo Dei terremotati Ischia E su tante altre pagine Sulle quali Praticamente Possono Trovare Questa raccolta Siamo arrivati A ben oltre 200 firme In pochi giorni E contiamo Di arrivarne A tante altre I passi successivi Oggi Noi siamo partiti Proprio oggi Ho avuto un incontro Con il Parroco Della chiesa Di Diciamo Di Santa Maria Maddalena Il quale Ovviamente Si è reso felice Di questa iniziativa E disponibile Prossimamente Incontreremo Il vescovo E Noi sappiamo Ricordiamo Voglio ricordare Che quest'anno Cadono i 125 anni Del venerabile Parroco Morgera Che si faranno Vicino Alle pareti Dei giardinetti Verranno apposte Delle maioliche Con la vita Del parroco Morgera E quindi Prima Diciamo Diamo un attimino Spazio A queste Celebrazioni E poi Che si faranno In maggio In questo mese E poi Sicuramente Dopo l'estate Quando sono finiti Questi Lavori Faremo Una raccolta Fondi E faremo Una statua A mezzo busto Nei giardinetti Dove In marmo Di Carrara Perché Don Vincenzo Possa rimanere Indelebile Nella sua Santa Maria Maddalena Come già lo è Nel cuore Di tutti noi Uniti Nel nome Di Massimo Troisi Ma anche Dei Borbone San Giorgio Accremano E Procida Capitale della cultura 2022 Sono pronte Per siglare Un atto Che darà il via A percorsi culturali Condivisi Il sindaco Di San Giorgio Accremano Giorgio Zinno Insieme all'assessore Pietro De Martino Hanno incontrato Sull'isola Il sindaco Dino Ambrosino Per avviare Questi percorsi Partendo dal legame Con il grande Massimo Troisi Dopo questo atto formale Si potrà dare il via Ad una serie di eventi E iniziative comuni Basate non solo Sulle esperienze Cinematografiche Legate Al cittadino San Giorgese Più illustre Ma anche Sulla storia Del periodo Borbonico E parlando sempre Di Procida Ma anche di cinema Parte il bando Per il Procida Film Festival Tema centrale Quest'anno La cultura Non isola Che riprende l'idea Alla base Di Procida Capitale della cultura 2022 Il Procida Film Festival Conferma la sua Tradizione di promozione Culturale e artistica Dell'isola Queste le parole Del direttore artistico Francesco Bello Fatto Per i dettagli Vediamo il servizio Al via Il bando Per il Procida Film Festival Che è giunto Alla nona edizione Conferma il suo carattere Internazionale Grazie al partenariato Con il Procida International Film Festival Curato da Catrina Miccio Il tema del concorso Di quest'anno È la cultura Non isola Con le sezioni Cortometraggi Documentari E film d'animazione Con l'edizione 2021 Spiega il direttore artistico Francesco Bello Fatto Il Procida Film Festival Vuole confermare La sua tradizione Di promozione Della cultura cinematografica Legate alle radici E alla storia isolana Nella prospettiva Dell'appuntamento Dell'anno prossimo Con Procida Capitale della Cultura Arassegna Intende rilanciare Altresì con forza Il tema La cultura non isola Come linguaggio universale In grado di superare Le barriere tra i popoli Oltre alla presentazione Della selezione Dei lavori pervenuti Le quattro serate In programma Nel mese di settembre 2021 Saranno dedicate Da una retrospettiva Dei principali film Girati a Procida Che negli anni Ha offerto Le sue location A grandi produzioni Italiane E internazionali Ogni proiezione Sarà preceduta Da un incontro Con protagonisti Del mondo Dello spettacolo E della cultura E parte da Napoli La domanda di brevetto Per un vaccino batterico Contro Covid-19 Da somministrare Per via orale La richiesta giunge Dalla Next Biomics Società dedicata Alla ricerca E allo sviluppo Di probiotici Di prossima generazione E spin-off Dell'Università Degli Studi Di Napoli Federico II Il vaccino Si differenzia Dagli altri In quanto Non necessita Di iniezione Non utilizza Un vettore virale Come l'adenovirus E sfrutta La capacità Intrinseca Delle scherichia Coli Il vaccino È simile Agli altri Già autorizzati In quanto Stimola la risposta Immune Contro la proteina Spike Che il coronavirus Usa per infettare Le cellule Spiega Giovanni Sarnelli Docente Di gastroenterologia Della Università Federico II Ma se ne differenzia Dagli altri vaccini Perché utilizza Come vettore Un batterio probiotico Già in commercio E largamente Utilizzato E chiudiamo Con questa notizia In un video Raccontando Con le immagini L'inizio Della loro lunga storia D'amore Rosa Iacono Ha voluto ricordare E salutare Il compagno Di una vita Cristofaro Scomparso Lo scorso 3 maggio Per un grande amore 48 anni Non bastano Così esordisce Il video firmato La tua metà Così parte Il commento musicale Che accompagna Lo scorrere Delle immagini Sbiadite dal tempo Del giorno Del matrimonio Ad alcuni momenti Del viaggio di nozze Ed alla fine Un lungo elenco Di ringraziamenti Di quanti Hanno partecipato Al momento di dolore All'ultimo saluto Di Cristofaro Che lascia In opere E figli Una bella eredità Che ne proseguirà La strada Tracciata Ed ora vediamo Che tempo farà Sulla nostra regione Previsioni Per domani Al mattino Sulle coste Bel tempo Con cieli sereni In montagna Parzialmente nuvoloso Con schierite prevalenti Nel pomeriggio Sulle coste Bel tempo Con cieli quasi sereni In montagna Parzialmente nuvoloso Con schierite prevalenti Per il momento è tutto Grazie per averci seguito E buona serata Grazie per averci seguito